16 luglio, Sambuca di Sicilia, 29esima edizione del premio Agora, un appuntamento atteso per le agenzie pubblicitarie di tutta Italia. Oggi incontriamo il presidente del premio Agora, Antonio Bartoccelli. Buongiorno, intanto io vorrei invitare tutti quelli che ci ascoltano a venire a Sambuca a partecipare al premio Agora. Sambuca ha vinto quest'anno il premio come miglior borgo d'Italia e quindi può essere un'occasione di una bella gita. Il premio Agora è arrivato alla 29esima edizione. Vi devo dire che non è stato facile arrivare a questo obiettivo. La cosa di cui io mi sto occupando adesso vi sembrerà strana, ma io sto pensando già alla 30esima edizione, perché la 29esima è fatta. Abbiamo riunito la giuria, c'è chi ha vinto e c'è chi non ha vinto come tutti i premi. 33 agenzie pubblicitarie da tutta Italia per 12 premi. Sì, i premi, voglio dire, noi seguiamo un criterio nella giuria. Bisogna pigliare un punteggio, quindi non sono predefiniti i premi. Se si raggiunge un punteggio si ha il premio, se no possono essere meno o di più. Ecco, quindi è elastico, non è che è definito che sia o no. Certo, tra quelli che vincono la Gorà d'Argento, poi si decide chi deve vincere la Gorà d'Oro. Tra l'altro è importante sottolineare che non soltanto l'agenzia vincerà il premio, ma la campagna pubblicitaria legata all'agenzia farà sì che anche l'azienda usufruirà di questo, diciamo, encomio. Sì, questa è una caratteristica del premio a Gorà. Altri premi non hanno questa caratteristica. Noi l'abbiamo voluto fare, quando dico noi parlo del club dirigenti marketing, che chi ha inventato il premio a Gorà è un'attività del club dirigenti marketing. L'abbiamo voluto fare perché riteniamo che l'agenzia che, diciamo, svolge un lavoro, è importante premiarlo ovviamente, ma è anche importante premiare l'azienda che ha commissionato quel lavoro. Il nostro obiettivo, soprattutto per la trentesima edizione, vuole essere quello di rivalutare la creatività. Che un po' in Italia si va perdendo, un po' è quello che diciamo che nel mondo moderno bisogna avere idee. Molti pensano che il mondo sia governato dalle lobby, dagli interessi. Sì, sul momento sì, ma la verità è che le grandi trasformazioni nel mondo le hanno fatte le grandi idee. Quest'anno abbiamo dimenticato di dire che c'è un premio in più, con una particolare dedica. Ogni anno noi, diciamo, inseriamo nel premio a Gorà qualche novità. Quest'anno abbiamo voluto premiare, ce ne ha dato occasione un socio, Nicolò Curella, fondatore di Banca Sant'Angelo, inserire il premio etico. Cioè premiare quella campagna che ha più valori e che trasmette valori. E l'abbiamo inserito e quindi verrà consegnato il premio Nicolò Curella in questa edizione. Lo troviamo una cosa buona? Perché io sostengo che chi come noi fa questo mestiere, la comunicazione, la pubblicità, quindi ha strumenti per convincere le persone anche a consumare un prodotto, ha delle grosse responsabilità e non si può prescindere dall'etica. Anzi, chi ha più responsabilità, chi ha più strumenti, deve maggiormente tenerne conto. E quindi abbiamo voluto sottolineare anche questo. E quindi l'appuntamento per sabato 16 luglio alle 18 a Sambuca di Sicilia, palazzo? Il palazzo si chiama, la sede diciamo del comune di rappresentanza, si chiama Palazzo Panitteri. L'ingresso sarà libero, aperto a tutti? Beh certo, ho invitato tutti a partecipare tranquillamente, a fare una bella gita a Sambuca e a partecipare al premio. Grazie a tutti.